salve care amiche ed amici beh questo potrebbe essere un tutorial di come fare merenda coi cereali questi cereali li ho comprati più di due o tre mesi fa perché ho avuto nostalgia guardandolo questo cartone nel mercato che c'è dei cartoni ai cereali che ho mangiato che mangiavo quando facevo da bambino e da ragazzo le vacanze in miami miami beach in florida e adesso a distanza di tanti di più di vent'anni ho iniziato a mangiare di nuovo così forse coi coloranti gli additivi chimici che già mi vendrà un tumore e spero di no vabbè comunque bando alle ciance che non so ancora che scorse sono voi non me l'avete spiegato inizio questo video che non sarà un tutorial di gastronomia ma un tutorial tata sopra instagram partiamo e ci si gira come potete vedere anzi come non potete vedere vediamo io sto mettendo un commentario in instagram e lo mando è una cosa che ecco vedete mi appare questo messaggio sembra che instagram sta sperimentando dei problemi cerca di ripeterlo dentro circa fra qualche minuto allora ci ritroviamo e non succede nulla lo eliminiamo commentiamo di nuovo esperimenta dei problemi instagram questa è una cosa che mi fa volvo intento di nuovo mi dice errore intendo di nuovo eliminare allora gli appiccico ebbene e mi fa queste corse qua non posso ripostare nulla devo eliminare non posso mandare il mio commentario bene vi faccio un epilogo terzo tempo della ripresa dice dobbiamo proteggere non so che cosa di instagram e allora determinato contenuto dei suoi interventi saranno censurati e sarà censurato questo è il terzo commentario che mi arriva o che hanno dei problemi o bla 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 ma io non scrivo parolacce addirittura ogni tanto qualcuno in instagram mette delle foto porno scrive delle minacce e a loro non li cancellano ne cancellano gli interventi invece a me che io dico complimenti bella foto e dice no abbiamo dovuto moderare il tuo intervento per non compromettere la comunità e quindi ti blocchiamo la capacità di intervenire nel posto degli altri per 48 ore oppure per sette ore oppure per mezz'ora per 40 minuti poi continua a commentare e accettano i commentari anche quando c'è il blocco a volte e poi ad un tratto mi dicono o abbiamo cancellato i tuoi interventi oppure adesso fino a lunedì adesso mi hanno bloccato l'opportunità di commentare il post degli altri in instagram fino a lunedì adesso che sabato notte diciamo 19 53 27 di settembre sabato allora bloccano l'opportunità di commentare gli interventi degli altri fino a lunedì magari lunedì alle 20 di sera però io non ho scritto parolacce non ho mandato fotoporno non ho fatto nulla di osceno e mi bloccano gli interventi e il primo commentario che ho fatto nel giorno magari qualcun altro fa cose peggiori delle mie e non gli bloccano nulla quindi io non so secondo quale criterio se mi continuano a bloccare i commentari e io magari me ne vado da instagram magari metto un'altra applicazione nel cellulare però vi volevo dire due cose su instagram innanzitutto se voi volete aumentare gli iscritti e voi volete aumentare anche il like e mi piace e i commentari beh vi do nella descrizione il link dei miei instagram così se voi mi aggiungete nel vostro instagram di sicuro avrete due iscrizioni in più due commentari in più e due like in più in ogni foto che voi commenterete le mie quindi commentate le mie foto mettete like ed io farò lo stesso ai vostri le vostre foto commentando le mettendo like intanto scrivetevi ai miei due instagram che metterò il link sotto il video nella descrizione ed io mi scriverò al vostro instagram quindi come dire queste sono le suggerenze per aumentare gli iscritti iscrivetevi iscrivetevi al mio instagram che io mi scriverò al vostro sono già arrivato a avere circa non so se 500 iscritti nel mio instagram e l'ho aperto da due mesi circa il tempo passa io giorno dopo giorno sto in instagram e mi scordo di fare video per youtube e poi è incredibile sono passati due mesi a me mi sembra che ho installato l'applicazione ieri e purtroppo si mi ha rotto il tablet mi si è rotto il tablet e quindi è anche più difficile usare dalle galassie yung 53 60 instagram è meglio nel tablet però si fa meglio clic che nel cellulare purtroppo non ho risorse economiche come per farmi cellulari migliori o tablet migliori se voi gentilmente mi seguite in instagram ed anche in youtube magari youtube in inizia a pagare qualcosa perché io mi devo rifare il parco tecnologico se no le macchine mi piantano poi allora dicevo come fare delle migliori foto non non ho dei suggerimenti molto buoni da darvi bisogna essere originali e saper cogliere l'occasione se volete vedere delle buone foto cercate in san ten chan nel inizio in instagram instagram san ten chan ritroverete delle buone foto quasi 2000 ne ho caricate quasi 2000 e in due mesi e quindi fa che sono 60 giorni chi se ne frega quanto al giorno a volte nessuna a volte 40 e quindi io non ho dei suggerimenti concreti da darvi ma guardate le foto che ho caricato io che l'hanno commentato il persino commentato no hanno anche venti like certo non arrivano le mie foto avere 2000 like però se voi mi aiuterete in questo io vi aiuterò mettete like nelle mie foto di instagram io farò lo stesso con le poste questo instagram mi permette di accedere a facebook ea twitter senza entrare in facebook e twitter volete sapere quali sono i miei facebook e twitter semplici sante gian ha ha e quelli sono i miei facebook e twitter però anche cercate gabriele ezekiel perché ho un facebook come gabriele ezekiel ma che cazzo ne so boh così cercavo dei nomi degli pseudonimi e mi sono usciti a cazzo di cani questi due gabriele ezekiel veramente io non ho idea da dove cacchio mi siano arrivati questi gabriele ezekiel però adesso vi lascio ieri ho fatto un video anzi l'altro ieri e adesso era solo per commentarvi la cacchiatura questa di instagram che anche il nome è difficile ma io avevo sentito di chic e di altre applicazioni tipo instagram se proprio mi rompono le palle che non vogliono pubblicare i miei commentari agli altri post io addirittura annullo l'account e cerco una migliore applicazione se voi sapete cosa ci può essere di migliore a instagram per android ditemelo e io cercherò di sperimentarlo poi mi piacerebbe un qualche cosa che si apre anche dal pc non dal pc di bottego stucure dal pc del computer e soprattutto devo ritornare a fare video per youtube perché sto anche perdendo la mano mi scende il braccio adesso sto con un occhio anche a tricetto di allora vi saluto arrivederci e grazie ciao